Buonasera a tutti, è stato un weekend davvero pesante per quanto riguarda gli incidenti stradali nella nostra regione. Cominciamo dalla tragedia che ha scosso profondamente la città di Udine. Ieri sera un ragazzo di 16 anni è stato investito e ucciso mentre attraversava la strada in via delle Ferriere. Investimento mortale ieri sera a Udine. La vittima è sedicenne Riccardo Franzin che stava attraversando la strada quando è stato travolto da un'auto. Lo schianto è venuto poco prima delle 22 in via delle Ferriere all'altezza del distributore di carburante che si trova a poca distanza da Piazzale Cella. A investire il ragazzo è stato un 57enne di Udine alla guida di una Smart. L'urto è stato molto violento, tanto che i sanitari inviati dalla centrale Sores con due ambulanze e un'automedica non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Udine che dovranno chiarire la dinamica dell'incidente, quindi anche se Riccardo stava attraversando la strada sulle strisce o se si trovava a ridosso delle stesse. La vittima, che avrebbe compiuto 17 anni tra due giorni, era residente con i genitori Nadia e Massimo Plaino, frazione di Pagnacco, e giocava a rugby a Pazian di Prato. La società lo ricorda su Facebook anche con alcune foto dell'ultima partita disputata il 16 febbraio 2020 a Campo San Piero. Dopo lo stop dovuto alla pandemia, riporta il post, a settembre Riccardo ha detto che avrebbe ripreso più in là. Dopo la notizia dell'incidente, allenatori, staff e compagni di squadra si dicono sconvolti. Ti aspettavamo in campo, avevamo ancora molto da fare, allenamenti con gli amici, partite da giocare e mette da segnare. Quando un giocatore di rugby sale al cielo, nel nostro sport si dice che ha passato la palla, ma questa volta è stato troppo presto. Tanti messaggi di dolore e di condoglianze alla famiglia via social, da parte degli amici, del ragazzo e non solo. Sia il papà che la mamma di Riccardo hanno risposto così via Facebook, eri ancora un cucciolo, avevi una vita davanti. Spero tanto che da lassù tu ci possa proteggere, come papà e mamma ti hanno sempre protetto. Ti abbiamo amato, ti ameremo per sempre. Altre vittime purtroppo della strada. È morto nel pomeriggio all'ospedale di Udine il motociclista udinese di 61 anni coinvolto in un altro incidente stradale avvenuto ieri sera a Butrio, verso le 20 in via Udine. Renzo Kollovic era un pilota di enduro molto conosciuto in città. Per causa in corso di accertamento aveva perso il controllo del mezzo ed era finito fuori strada facendo un volo di 10 metri. Nella caduta aveva perso il casco riportando ferite gravissime. È morta anche l'83enne, travolta ieri mattina da un camion in manovra in via del Cristo a Cordenonso mentre stava rientrando dalla spesa in sella alla sua bici. La donna ha battuto violentemente la testa a terra perdendo conoscenza. Il personale sanitario ha operato per una ventina di minuti per stabilizzarla e poi l'ha portata in ospedale a Udine dove purtroppo è deceduta. Veniamo ora agli aggiornamenti che riguardano l'andamento della pandemia. Cominciamo con i contagi giornalieri per quanto riguarda la nostra regione, contagi in forte calo. Lo vedete sono solo 24 anche se in forte calo e anche il numero dei tamponi 2.979. È bassa però la percentuale, il rapporto tra contagi e tamponi. Calano anche gli isolamenti, 7.022. Crescono però le terapie intensive che salgono a 34 e anche i ricoverati negli altri reparti che salgono a 217. Un flash anche sull'andamento nazionale dei contagi, 9.148 positivi nelle ultime 24 ore. Sono 144 le vittime in un giorno e questo è il dato più basso degli ultimi 7 mesi. Sale il tasso di positività al 5,8%. Andiamo a vedere anche l'andamento delle vaccinazioni nel nostro paese. Queste sono le dosi somministrate che superano i 20.500.000 mentre sono oltre 6 milioni le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi. Intanto sono in arrivo altri 2.100.000 dosi di Pfizer che saranno distribuite alle regioni. e anche tra ieri e oggi sono già stati distribuiti 2 milioni e mezzo di vaccini. Finora sono stati consegnati in tutto oltre 23 milioni di vaccini. Proseguono anche i controlli per il rispetto delle normative anti-covid. Udine chiuso un locale in periferia e denunciati due giovani in centro. È scattato poco prima della mezzanotte l'intervento della polizia locale di Udine al laghetto Alcione di Via dei Prati in Baldasseria a seguito di diverse segnalazioni giunte alla sala operativa del comando dei vigili e anche della questura. Intervenuti sul posto con quattro pattuglie, gli agenti si sono trovati di fronte in locale pieno di avventori. 18 quelli fermati e sanzionati per violazione delle normative anti-covid ma in molti sono riusciti anche ad allontanarsi prima di essere identificati dalla polizia. Secondo una stima potrebbero esserci state una sessantina di persone. In collaborazione con la squadra amministrativa della questura è stata così disposta la chiusura dell'attività per 5 giorni con annessa sanzione amministrativa. Nell'ambito dei controlli in centro città invece ieri sera la polizia ha denunciato per ubriachezza molesta e perché non indossavano le mascherine due ventenni già noti alle forze dell'ordine. È successo in piazza Matteotti attorno alle 20.30. Uno dei due è stato denunciato anche per resistenza pubblico ufficiale. Il maltempo delle ultime ore ha frenato l'arrivo di tante persone in centro. Qualche assembramento nella giornata di ieri lo si è comunque visto. È già stato programmato per domani un vertice in questura per analizzare la situazione e mettere a punto se necessario eventuali interventi correttivi anche per lo svolgimento di Udine sotto le stelle. A proposito di controlli vi facciamo vedere quegli avvenuti oggi a Lignano dove le forze dell'ordine hanno utilizzato gli occhiali termici proprio per controllare la temperatura delle tante persone che oggi hanno affollato le località di mare. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata. Grazie per aver guardato il video.